Ciao ciao a tutti ragazzuoni! Bene ragazzi! No, non interrompermi, sono Petro che ho le tanche e questo nuovissimo video che faccio questa volta su Call of Duty Infinite Warfare con una cosa molto particolare cioè il pacco opening più grande d'Italia Perché ho una ciambella al collo? Ah, perché ho una ciambella al collo? Non lo so, avevo una ciambella in casa Perché in realtà è la ciambella che è sopra di me non sono io che ho la ciambella al collo Ah, ok Nella mia testa era più divertente Perciò, Alan adesso mi spiegherà in cosa consisterà il pacco opening di oggi Prego Niente raga, allora Hanno messo questi bei pacchetti che, vabbè, sono tutti esauriti perché infatti ho preso quelli di Halloween vedete il bel personaggio Hanno messo sto pacchetto da 30 rifornimenti rari senza oggetti doppi quindi no copia che costavano 450 cripto chiavi e li ho presi tutti e quattro a un prezzo di 1800 cripto chiavi 1800 picco chiavi E niente, quindi ho 120 lanci di fornimento rari no copia ad aprire vuol dire che troverà 360 oggetti che non ho 360 oggetti nuovi Il video si strutturerà così Noi faremo vedere tutti i pacco opening però quelli interessanti chiaramente li vedrete in prima persona quelli meno interessanti vi passeremo velocemente in modo che il video sia comunque scorrevole e piacevole al pubblico partiamo il primo lancio di rifornimenti vediamo bello bello c'erano le jelly beans si partireanno già bene vabbè sono cose che arrivano tipiche bello l'ho appena diamantato però ci sta ci sta la prima arma pure epico il primo banshee epico il primo arma epica raga la banshee allora ce l'ho anch'io ci sta perché dovete sapere signori che io faccio cagare a freddo di bello la cuccagna avrete già visto un altro video che abbiamo fatto assieme che vi metto da qualche parte però ce l'ho anch'io mi piace comunque giocarci ma ci ho giocato poco in finis warfare quindi raro capsula figo come accessorio oh figa sta mimetica non ce l'ho non so come sia sarà movimentata bello il nv4 con ferity cowboy ma che figo oh raga l'auger epico cioè quella è una mitra di scelgera doppia è doppio minigun auger esce è fantastica quella ci sta raga ci sta la prima cosa qua è la cosa che c'è stata di più questa beh anche il fucile a pompa c'è stato quello epico cioè quando vedi qualcosa di epico è qualcosa di epico bello quel titolo anche se ce ne sono troppi uguali di quelli bello bello quel titolo oh raga ci sta uova via avanzata che si muove pure anche io le buone le cose più belle sono quelle che si muovono tranne te ti giuro che devo di essere no 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 tu non sei epico mia mamma oh stamattina mia mamma mi ha svegliato e mi ha detto tu sei epico pronto e te pari chi era chi era chi era chi era ma chi era quella esatto no chi era mannaggia te ti ho detto di non mettermi a parlare col cane di non mettermi a parlare col ah io mi vergognerei se fosse in te ok non ti vergogni avete problemi io non so perché l'ho seguito ti ha coltello e il femore io ti avevo pesato ti confermo il femore mi piace preferisci lei però non trovo cosa bello non ti dico non ti dico non ti dico non ti dico ne abbiamo fatti già 30 ma ti dico bello dite incrociate i gesti ragazzi strabelli signori dite incrociate per trovare qualcosa di veramente l'opera 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 ma per un'altra arma qua c'è limiti che per ogni bello sandwich ancora mi piace portacchiavi ah che figo il castoro che figo il posto ah che figo mister smokey pussy smokey puss doveva essere family family di questo video è smooth puss il puss come schiarci altro acquisto di rifornimenti signori altro acquisto oh oh questa ci sta raga ci sta perché per il nucleare raga raga oh ma sono io ho trovato l'eroe poi in dexter quello di zombie ci sta ci sta e anche l'rbn questo è un bel baule questo è un bel baule oh scusa ma è bello è bello col fuggire a fronte è epico oh bello anche quello bello se finalmente il bozo zoku coso zoku ma che questo è straforte straforte ci sta raga un'altra epica cioè raga le epiche così sono bellissime sono uno spettacolo è uno spettacolo tipo delle classi con tutte armi rare con un sacco di epiche ora epiche sì rare nel senso hai capito epiche con tutti i gli oggettini gli oggettini come si chiamano i portachiavi i portachiavi diversi fighi così se qualcuno ti ruba l'arma si sente come come Fabio Rovazzi quando cade Gianni Morandi dal palco povero ma no è più bravo ma è più bravo ma è più bravo ma stupida ciambella bello bello di Bryce sono mimiche che non ho mai visto squartatore se ci gioco da quando ho preso il gioco ci gioco da quando era così come quando incontri parenti di lunga data mai visti nella vita mai sentiti nominare tu tu io ti conoscevo da quando eri così ma che cacchio ma levati ne ho trovato un po' che cacchio da quando eri così ne ho trovato uno io ok uno solo uno solo no 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 non due uno stai calmati sei molto eruento con me vediamo che se ho trovato la marijuana ho trovato ho trovato la droga la droga e poi ho trovato l'rpr ma tu non mi hai andato via? si ma non ti vergogni? il saluto avanzato provocatore bella che figa ancora una maschera della beta anche quello dello spazio è figo che figo la metica è quattro metiche diverse che figo il turbo che figo i dati questo ci sta raga ma io dopo non so dopo vi faccio vedere tutti gli accessori ok i francesi guardano il tuo video tu francese che guardi il mio video oh 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 il trencher per il nucleare questo è straforte come un'arma ed è pure per il nucleare questo ci sta ci sta un botto si può continuare posso parlare con il francese adesso? parlo nella vostra lingua raga la trombetta è strabello continuo a parlare ti prego quando parli troverò me figo però lì è la movimentazione che da una partita più la trombetta esattamente vai parla 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 stavo dicendo tu francese parlo nella tua lingua vuole vu pattea vet moi mangialuma che no vide io vorrei tipo un nv4 caos sarebbe stato empico se l'avessi provato proprio mentre lo dicevi un nv4 caos avrei messo la musica boom 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 io avrei un nv4 caos hai ancora 20 accogionamenti per dirlo secondo me dai però che figo allora dai dai però no carino 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 oh raga oo le metiche bella c'è scritto che muovere si muove tutto signore 10 9 7 6 davvero devo provarla dopo 5 4 2 signori è arrivato il momento lasciate like se siete arrivati a questo punto lasciate like del like o dobbiamo fare tanti bel like perché alla parola stitti no non è vero si con 10.000 like lo faccio no gioca troppo leggendario un finale deludente comunque non è stato un pacco penning brutto sinceramente hanno trovato una marea di portachiavi che adesso andiamo a vedere vediamolo un po tutti o il panino però c'è si vedono l'antanato hamburgeri vabbè il panino il cobra neversoft il bello dell'occhio il flacone di marijuana però lui c'è scritto solo flacone sono indiscreti loro si proprio come è disegnata poi raven l'uavì bello l'uavì poi bombardamento i guanti dorati di mohamed ali i bambini in bikini papas non so perché il papa in bikini papas se ci stai guardando la p3 x questo qui ragazzi come è più bello smile mort poi air grey e il la opla poi il castoro lo scorpione il c12 i dadi sono smug bus il turbo raga il turbo bellissimo olympus che l'astronave la capsula la manita falleita la manite falloide a manite falloide il cappello di price scar cervello ghiacciato parti e orecchio poi sono quelli che ho allora ragazzi io vi ringrazio tanto per la visione vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto spero vi sia piaciuto questo pacco opening perché a noi non è piaciuto no sì però speravo più robe quello che volevo sì in effetti con la storia che non si potevano trovare quelli duplicati speravamo in qualcosa di più figo ma è andata così già aprire 120 casse è stata tanta quindi lasciate tanti bei pollicioni in super questo mega pack opening che forse no senza forse è il più grande in italia si da quello che abbiamo visto noi siamo andati a farci due ricerche nel mondo almeno quello più grande era quello di velox a 100 nostro 120 dovrebbe essere quindi tanti pollicini in su ci vediamo al prossimo video e ciao 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 a tutti ciao ciao bella ciao